Sono l'omicidio colposo e l'inosservanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro i reati ipotizzati nei confronti dei cinque indagati per la morte di Benito Branca, l'operaio mesagnese di 42 anni che mercoledì scorso ha perso la vita nel crollo di un solaio durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione alla periferia di Mesagne. Il primo passo determinante nell'inchiesta è l'esame autoptico in corso di svolgimento lunedì 4 ottobre presso la sala mortuaria del cimitero di Ostuni e affidato al medico legale Antonio Carusi. Sarà fondamentale determinare con esattezza la dinamica del decesso per individuare con precisione la tipologia del lavoro che Branca stava effettuando e se si trovasse al momento del crollo della pensilina per strada o sul solaio a circa 4 metri d'altezza. Saranno presenti i periti medici nominati dalla famiglia della vittima e dagli indagati. La procura ha nominato anche un consulente tecnico che dovrà periziare il cantiere d'Ile in cui è avvenuta la tragedia e che è stato posto sotto sequestro. 5 le informazioni di garanzia notificate nei giorni scorsi dai poliziotti del locale commissariato risultano indagati il titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, i due proprietari dell'abitazione, marito e moglie, l'architetto progettista del cantiere e l'ingegnere che ha redatto i calcoli statici della struttura. Al termine dell'autopsia la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali che dovrebbero svolgersi martedì nella Basilica Minore della Vergine del Monte Carmelo. In quella giornata, su decisione del sindaco Tony Matarrelli, sarà proclamato il lutto cittadino e le bandiere degli uffici comunali e degli enti pubblici saranno a mezz'asta.